Sì ragazzi, nel 2022 e ancora, ancora parliamo di Cavani al Napoli. Siamo nel 2022 e ancora parliamo di Cavani al Napoli. Perché c'è un motivo molto semplice? Perché ragazzi, a quanto pare, quest'anno il Napoli ci proverà sul serio. E Krem Konur, adesso non ricordo, un esperto di calciomercato dalla Turchia, ne parla, esperto di calciomercato internazionale, dice che il Napoli sta seriamente prendendo in considerazione l'idea di prendere Cavani. Che non mi sorprenderebbe assolutamente. Ragazzi, Cavani è in scadenza di contratto e sarà svincolato ufficialmente dal primo di giugno, dal primo di luglio, adesso non ricordo precisamente quando scadrà il contratto di Edinson Cavani. Dunque il Napoli potrà prelevarlo a parametro zero. Con il decreto crescita potrà approfittare della situazione, proprio dello stipendio, dunque andando a pagarlo all'ordo molto di meno. Dunque lui andrà ad insaccare la stessa cifra che avrebbe voluto con Napoli che va a spendere di meno perché Cavani va a pagare meno tasse, eccetera, 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 con la situazione del decreto crescita. In questo momento Cavani ha 35 anni, il 14 di febbraio ne compirà 36. Chiaramente non è il Cavani che ha lasciato Napoli, però ragazzi potrebbe un poco fungere da quello che ha fatto, da come ha appunto, un po' Ibrahimovic nel Milan. Un calciatore di esperienza, un calciatore che si è andato qua da ragazzo, anche se comunque era quasi uomo, ma torna da un uomo che ha vinto tanto, ha vinto con il Paris Saint-Germain, ha vinto con il Manchester United, ed è uno che ha affrontato situazioni difficili, partite difficili, ha una grandissima esperienza, conosce Napoli ed il Napoli, troverebbe nuovi stimoli a Napoli, potrebbe fare sia il titolare in certe situazioni che chiaramente il vice Ossiman, perché chiaramente il titolare rimarrebbe, Victor James Ossiman, anche e soprattutto per la questione dell'età, ma a 35 anni, ragazzi, Cavani può ancora fare la differenza, può ancora fare tantissima differenza perché Napoli ha bisogno di calciatori del genere, c'è bisogno di un mix importante, chiaramente, tra giovani ed esperti, e l'esperto può essere Cavani, uno che ti porta l'entusiasmo alla piazza, uno che ti porta i 60.000 al Maradona, uno che ti può fare da solo un lavoro straordinario e che fisicamente, ragazzi, anche a 35 anni fa la differenza, ricordiamoci che fisicamente Cavani è un mostro, letteralmente, Trevisani, perdonami per il copyright, però è un mostro a tutti gli effetti, lo stesso Alfonso De Nicola disse che non aveva mai visto nessuno come Cavani dal punto di vista atletico, è veramente un qualcosa di incredibile e quindi il Matador Cavani sarebbe, secondo me, un colpaccio clamoroso, a quanto pare, questo è quanto riferisce la radio ufficiale del Napoli, la sua richiesta sarebbe di un triennale da 15 milioni, questo non significa 15 milioni all'anno, ma 5 milioni all'anno, una cifra che il Napoli potrebbe tranquillamente spendere, considerato soprattutto il fatto che già adesso il monte in gaggi è sceso rispetto all'anno scorso, andando a prendere Matias Solivera, che prenderà all'incirca un milione e mezzo, andando a prendere Quaraschele, che prenderà all'incirca un milione e mezzo, Insigna andrà al Toronto e prendeva 4 milioni e mezzo più bonus, Ulham prendeva 2 milioni e mezzo, Malcui prendeva 800.000-900.000 euro, comunque il Napoli già ha alleggerito il monte in gaggi e Cavani potrebbe essere uno strappo alla regola importante da fare, anche perché poi, ripeto, 5 milioni netti non sarebbe una cifra indicibile per il Napoli da spendere, sarebbe probabilmente con il decreto crescita, non so, saranno 7-8 milioni, non ne sono convinto, forse anche qualcosina e meno, vi dico la verità, non ne sono sicura al 100%, non è questo il mio mestiere, non è questo quello che faccio, però chiaramente godrebbe di agevolazioni dovute appunto al decreto crescita, Cavani vuole tornare in Italia, si è parlato anche della Salernità, nonostante il fratello agente del Matador ha detto che non ci sono stati nessun contatti, Sabatini ha detto che non ci sono le condizioni economiche, questa cosa non ci credo, perché Iervolino è uno che è sordi e tene i sordi e secondo me se volessero prendere Cavani potrebbero tranquillamente prenderlo, poi chiaramente se non hai chiuso l'accordo non lo vai a sventolare ai 4-20, soprattutto se si parla di un calciatore svincolato e devi prendere l'accordo solo con lui e quindi può avventarsi chiunque, non è che magari hai già l'accordo con la società e quindi godi dell'accordo con la società e puoi sventolarlo ai 4-20, questa è una cosa da tenere sempre in considerazione, in ogni caso Cavani sarebbe tanta roba, Cavani sarebbe tanta roba, contare magari su una batteria d'attaccanti, Ossiman, Cavani e Mertens, mamma mia che cosa sarebbe, mamma mia che cosa sarebbe, sì certo, non una batteria d'attaccanti estremamente giovane, avreste Ossiman 23 anni, 24 a giugno, è a giugno e dicembre, siamo al 28 dicembre, Cavani 35 che va per i 36, Mertens attualmente 34 che va per i 35, se non erro, però ragazzi comunque sarebbe tanta tantissima roba, andresti ad unire due calciatori che fanno parte della storia del Napoli come Mertens e Cavani, Cavani ragazzi 3 stagioni 104 golli, ogni volta che ci penso mi viene una cosa qua, 104 golli in tre stagioni sono una roba senza senso, senza senso e si davano molti meno rigori di quelli che si danno attualmente e comunque ne aveva tirati 16, sbagliati 8, cioè quindi poteva segnarne altri 8, tra l'altro 16 rigori, 8 sbagliati ragazzi, questa è una statistica che mi rimarrà per sempre qua, cioè magari il 50% dei rigori, madre del signore, mai stato rigorista il Matador, mai stato rigorista il Matador, però mamma mia, mamma mia che cosa potrebbe essere, potrebbe essere il colpo che ti va a cambiare la piazza e la situazione in questo momento sentimentale di tutto da così a così ed è quel classico calciatore perfetto per affrontare la Champions League, il Matador Cavani è un calciatore che questi palcoscenici gli appartengono, ma poi ripeto il Napoli ha bisogno di questo tipo di calciatori che non ti guardano in faccia, che ti mangiano e ti sbranano vivo, infatti mi sembra che il Napoli stia proprio andando su questa strada andando a cercare calciatori uruguaiani, calciatori del Sud America con la garra, cattivi, stronzi, criminali, come Matias Olivera, si è parlato di Nandet, si sta parlando di Cavani, Quarascheria che non è chiaramente sudamericano, però è un criminale, che ha guardato un faccio e tricchiappacca, il Napoli ha bisogno di questo, quindi magari si sta provando a sacrificare leggermente quella che è la parte tecnica, tecnica in cui siamo sempre eccellenti per andare poi sulla parte un po' più fisica, la parte un po' più psicologica, che è la parte dove abbiamo un po' più sofferto, e quindi secondo me è un'idea molto interessante e che andrebbe a rinforzare il Napoli, perché il Napoli ha bisogno di questo, il Napoli ha bisogno di questo, perché dove siamo andati sempre a deficere è proprio la parte psicologica, la parte fisica, magari rinunci a fare il gol bello e magari perdi pure la partita, però l'hai persa e l'hai pigliata a pacca, almeno questo secondo me potrebbe essere un leggerissimo passo in avanti. Detto ciò ragazzi, mi raccomando, speriamo che ritorni il Matador, speriamo, voi sapete, non su questo canale qua, ma sul vecchio quando ne abbiamo parlato, mi raccomando ragazzi, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto, lasciando un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù, troverete anche il mio canale, G7 Shorts, il mio canale pubblico teleclippo, momenti coni, c'è un intervento nel canale, tu preferito, noi c'è la prossima, da sempre e comunque, tutta la vita, forza Napoli.